Don Orlando, mi ricordo quell'impegno Sì, sì Tocca a noi ora Non ti preoccupare Don Orlando salutiamo Buonasera, buonasera E di Peppino che ne è? E' malato Malato? Cornuto che è? Papà Mamà Io Agnese non la voglio Che dici? Come non la voglio? Io la voglio e la voglio inlebbata Mamà, perché proprio a me mi si vuole negare questo diritto? Perché? Ma dico, tu lo guardasti bene in faccia Don Vincenzo? Rispondete voi piuttosto Ma con tutta sincerità Voi l'avreste sposata, mamà Se si fosse comportato come Agnese a scalone si comportò con me E che ci entra sto discorso? Eppure non è che non ci provaste Beh, che significa? L'uomo ha il diritto di chiedere E la donna ha il dovere di rifiutare Appunto, per questo non la voglio Agnese non si rifiutò Non è vero? E io la buttana in moglie non la voglio Ma io con Don Vincenzo mi sono impegnato Tu però non rispondesti alla domanda di Peppino Se io ti avessi ceduto Tu mi avresti sposata Beh... Immancabilmente no Movedetevi, rompetevi la carina Tu naturo carica altro Mio, dammelo quando spara Ah, sì Carmelo, dammelo Avanti, mangia male al carimento Let's go